Perché via email il capogruppo riceve periodamente le delibere da discutere e da attivare con il proprio gruppo inoltre in qualsiasi quotidiano, se non sia capogruppo, ha la possibilità di risiedere in segreteria tutta la documentazione relativa all'oggetto delle delibere, quindi non posso avallare queste obiezioni per quanto riguarda me ed altri, la cosa che ha avuto il pregio a visione che mi mette una buona. Grazie Presidente, anche io ho imparato nell'utilizzo della vostra elettronica già da qualche giorno, ti faccio un esempio, perché non tutti sono presenti delibere di città, ma non documenti ammesso e non sono presenti delibere di un giorno per questa serata, è un solo incompleto. La normativa, il Presidente, mi dai conferma, mi dai conti, qualora gli altri non si lo comprendano non possiamo rispondere, i capogruppo, il segretario, che lo so, che lo scusano, può dare sostegno in quanto, se noi volessimo essere puntuali ad alcuni capogruppo questa serata, non potremmo rispondere. Quello che noi siamo viviti è che dal prossimo episodio cerchiamo di essere, di seguire la normativa. Grazie. Io volevo solo dire che io intendevo dire, quando riguarda gli atti di giù, che sono su via e me dice che è una notazione, lo dicevo che negli atti di consiglio, che è l'altra cosa, non ci sono i ambienti su via e me, se noi decidiamo, ma non ci sono i ambienti su via e me, se noi ci sono i Со Grazie.